Il Comitato Civico e Ambientale ha presentato una denuncia cautelativa alla Procura della Repubblica affinché si interessi del problema ambientale che affligge i cittadini della Piana del Sele, legato in primis ai rifiuti sversati in maniera incontrollata nelle discariche dismesse. Alla base della denuncia la necessità di fare luce sui casi di neoplasie registrati sul territorio, che impongono, secondo il Comitato, quantomeno una valutazione sull'impatto che hanno avuto determinati fenomeni. L'istanza fa seguito all'esposto presentato l'11 agosto 2017 attraverso il quale il Comitato chiese la non ubicazione di un nuovo sito di compostaggio, vista la cospicua presenza di impianti sul territorio e che venne rafforzato da una petizione che ottenne 3.614 firme.